Spacciava eroina ma con la mascherina FFP3, quella che dovrebbero usare i sanitari all'interno dei reparti ospedalieri per difendersi dal Covid-19 e che sono praticamente introvabili. A notare l'uomo sono stati i residenti del quartiere del Giglio a Montevarchi dove lo hanno visto aggirarsi con comportamenti sospetti. Gli abitanti della zona hanno informato i carabinieri che nonostante i giorni di emergenza sanitaria hanno avviato un'attività investigativa che ha portato all'arresto in flagranza di reato dello spacciatore. Si tratta di un disoccupato di origini nigeriane con precedenti di polizia che si era appunto anche dotato di una mascherina FFP3 con filtro incorporato per piazzare eroina anche in questi giorni così particolari. Il blitz dei carabinieri di Montevarchi è scattato nel fine settimana scorso. L'uomo, fermato per strada, è stato trovato in possesso di 20 grammi di eroina suddivisi in 22 dosi. Le operazioni sono state estese all'abitazione del soggetto dove i militari hanno trovato 325 euro in contanti frutto dell'attività illecita di spaccio. Tre telefonini cellulari in suo possesso. L'uomo è stato arrestato e si trova adesso presso il carcere Arettino di San Benedetto.